ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi unboxing del sito bead park nuova collaborazione in questi giorni sono un po' sparita dal canale perdonatemi ma sto partecipando a un contest e quindi sto perlinando a tutta io ovviamente quando manco è perché sto partecipando ma quando manco sul canale dico è perché sto partecipando a qualche contest oppure ho un po' l'umore un po' nero quindi siccome non voglio trasmettere nessuna negatività o altro quindi registro soltanto i video quando mi sento bella pimpante gioiosa questa era l'occasione giusta quindi vi mostro cosa ho scelto dal sito di bead park il pacottello è bello cicciottone ovviamente all'interno c'è sempre il pluriball sempre impacchettato perfettamente ma arriva sempre integro adesso vi mostro cosa ho scelto in collaborazione con il sito rieccomi allora questi sono tutti i prodotti che ho scelto questo è il ricapitolo con la bolla esattamente scelto 19 prodotti dal sito infatti sono due pagine e il sito bead park mi ha dato anche un codice sconto per voi se volete soffrirne del 3% il codice è gd3off ve lo scrivo ovviamente anche in descrizione con tutti i link dei vari prodotti adesso vi mostro in dettaglio cosa ho scelto allora il primo prodotto che vi mostro è questo qui questo è il codice ed è uno stampo ovviamente per la resina che può essere sia ovvi e sia epossidica visto che è trasparente ed è di questo graziosissimo piattino a forma di cuoricino carinissimo molto molto carino stampo è ben fatto e quindi andremo a realizzare questo piattino adorabile dicevo è un graziosissimo vassoietto piccolino a forma di cuore ogni volta che registro un video qualcuno ha bisogno di me quindi poi ho preso anche un altro stampo sempre per la resina questo è il codice è lo stampo di un portacandele a forma di ninfea che è carinissimo davvero molto molto carino e tra l'altro non vedo l'ora anche di realizzare anche questo qui e li farò credo abbinati perché siccome li voglio mettere qui nella mia cameretta quindi li farò in tinta poi ho preso questi glitter questo è il codice e sono dei glitter sono tre confezioni all'interno sono tre vedete tra l'altro la confezione è anche bella bella piena e questi sono i glitterini eccoli qua è tutto un luccichio luccichio sono bianchi dove andato a finire l'etichetta eccola qua e tra l'altro questi contenitori quando ho finito i glitter vanno bene anche per le perle da 4 oppure anche per le rocaille quindi vado a riutilizzare tutto anche le confezioni poi ho preso questi qui che sono degli stickers con le farfalline sono esattamente dieci fogli e non vedo l'ora di utilizzarle con la resina vanno bene sia per la resina ipositica e anche con la resina UV non sono adesivi sono plastificati e sono tantissime farfalline io li adoro le farfalle lo sapete e quindi glitter e farfalle ovunque poi ho preso quest'altro stampo questo è il codice questi sono cinque stampi vedete sono cinque sette da cinque e tutti quanti hanno questo questo disegno che lo trovo davvero adorabile ho già un'idea in mente con questo stampo poi vi mostrerò cosa ho intenzione di realizzarci però con queste decorazioni sono davvero fantastiche io le vedo adatte per tanti tante lavorazioni non vi anticipo nulla non vi spoiler nulla poi vedrete nei tutorial ok poi ho preso diversi ma proprio diversi colorazioni ma ne ho prese tante aspettate che le prendo tutte ne ho prese tante tante ma tante colorazioni ok adesso ve li mostro tutte quante in dettaglio dice avevi bisogno di qualche flakes sì avevo bisogno di qualche flakes le ho terminate tutte le metto comunque anche nel latte la mattina quindi ho preso questa che è la colorazione fucsia AB questo è il codice tra l'altro le buste sono giganti se non erro da 25 grammi e ce ne stanno un bel po' quindi lavoro flakes a quantità poi le ho prese anche in questa stupenda colorazione questo è sempre il codice del prodotto che è una sorta di blu elettrico sempre con i riflessi AB poi c'è anche quest'altra tonalità ve la metto vicino questo più sul blu elettrico vira sul viola sì più sul viola questo sul blu con sempre i riflessi AB questo è il codice poi le ho prese anche argento ed eccole qua poi le ho prese anche questo rosa shock bellissimo sempre con i riflessi AB poi le ho prese anche multicolor che fai c'era multicolor non lo prendi sì l'ho prese anche multicolor color e poi anche oro e questo è il codice quindi avrò flakes proprio a vita guardate quali entri sono poi ovviamente non ho preso solo cosine per la resina aspettate c'ho altri due prodotti per la resina ho preso anche queste due penne eccole qua questo è il codice ovviamente ne ho prese due il codice è sempre uguale sono delle penne con le punte in silicone hanno due punte in silicone questa è l'altra ne ho prese due perché poi sono carinissime perché ci sono anche i glitterini all'interno sempre te li metti a fuoco il cellulare sono carinissimi tra l'altro la prima cosa che ho visto di queste penne io ho detto oh che bello questi glitterini li posso mettere anche nella resina quindi già stavo smontando il tutto per recuperare i glitterini all'interno sono un po' malata lo so e quindi una di queste penne sicuramente andrò a rubare a fregare i glitterini all'interno per infilarli all'interno della resina sì sono sicura di questo poi ho preso ovviamente anche le berline che non possono mai mancare su questo canale ne ho prese qualche confezione allora la prima confezione è questa qui giro la telecamera così riesco a leggere anche io la dicitura e sono le Durocut Galvanized Light Cranberry e sono una stupenda colorazione Durocut mettiamo fuoco ed eccole qua sono delle rocaille della Miyuki già le ho utilizzate in passato sono una bellissima colorazione non perdono colore e sono belle luminose poi sempre Durocut ho preso queste qui che sono le Durocut Opac Cactus queste qui tra l'altro sono le 1076 della Miyuki queste invece sono le 44-74 ed è appunto il color cactus cioè questo colore è... è spiegato uno spettacolo cioè questo abbinato con determinati colori secondo me rende davvero tanto poi ho preso anche l'Opac Orange che è il 0406 sempre della Miyuki questo è un colore proprio boom colore proprio deciso molto molto bello anche questo poi ho preso le Durocut Galvanized Dark Sea le 1075 della Miyuki e questo è un altro colore stupendo davvero davvero stupendo molto bello poi ho preso anche queste che sono le Opac Colombine Columbine non lo so sempre Durocut e sono le 44-88 ed è un colore strepitoso strepitoso stupendo questo questo lilla tra l'altro adesso ve li mostro anche senza flash tutte quante e poi infine ho preso anche le Durocut Galvanized Gold le 18-32 sempre della Miyuki ed è un oro spettacolare queste ve le straconsiglio con queste delica ho realizzato tutte le incastanature della collana Queen che poi è quella lì che vedete nella sigla iniziale del canale e l'ultima diciamo creazione che vedete della sigla ed è uno spettacolo perché non solo i Swarovski danno tanto la luminosità ma anche le perline queste qui Durocut Galvanized Gold danno una lucentezza spettacolare alla creazione sono davvero molto molto belle io ve le straconsiglio queste qui adesso ve le mostro anche senza flash eccomi qua questo è senza flash il colore mettiamo sempre ok poi vi mostro anche queste stupende questo è il colore ed eccole qua poi ci sono questi arancio sempre se mette a fuoco eccole qui queste sono quelle cactus e infine queste Durocut sono davvero delle colorazioni stupende ovviamente i link come vi dicevo ve li lascio anche in descrizione vi lascio ovviamente anche il codice sconto quindi andate a curiosate sul sito di Bidpark io spero che questo video sia stato di vostro credimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video un bacio ciao ciao